È una mostra talmente importante a livello nazionale e internazionale, infatti Fanno è uno dei cinque siti dove viene proposta questa mostra a Leonardo Vitruvio e che noi veramente vorremmo vedere proprio la fila al di fuori del museo. Questa mostra invece, nonostante credo i buoni risultati, non c'è questa fila che si dovrebbe vedere anche proprio al di fuori dei musei essendo una mostra unica che per tre mesi vengono esposti questi disegni di Leonardo e alcuni documenti del Dea Architettura di Vitruvio credo che la promozione sia stata fatta in maniera non così forte e importante come invece una mostra di questo genere richiedeva. Infatti interveniamo proprio su questo tema, il discorso della promozione perché essendo tra l'altro questi dei gioielli incastonati nella parete come ha detto la curatrice Francesca Borghi doveva veramente portare tantissima gente. Questo perché, come ho ribadito qualche giorno fa, la promozione deve essere fatta in maniera importante e fondamentale per la nostra città cosa che ancora non viene fatta perché comunque alle fiere ancora la città di Fano non viene così sponsorizzata, percepita ma è un qualcosa che viene tenuto sempre un po' tra di noi come si dice. Quindi noi puntiamo e chiediamo veramente in una promozione importante per la città di Fano perché nella città di Fano si deve respirare veramente cultura, arte, è una città accogliente, bella e noi quindi ci aspettiamo che vengano sempre più turisti perché per far sopravvivere comunque il commercio a livello di negozi, ristorazione o tutto quello che concerne comunque il commercio e le attività economiche è importante questo, bisogna andare alle fiere, alle fiere internazionali.